una buona serata a tutti da marco l'innalzamento verso nord dell'anticiclone in area iberica favorirà a partire da domani un'ondulazione più settentrionale delle correnti atlantiche con aria più fresca in arrivo e contrasti più accesi sul nord est sin da questa sera notte domani le piogge potranno interessare seppur debolmente anche le regioni centrali in particolar modo nel pomeriggio situazione instabile anche nella giornata di giovedì in abruzzo per domani tempo irregolarmente nuvoloso sin dal mattino e possibili prime piogge seppur deboli dal primo pomeriggio in particolare sui versanti adriatici la ventilazione sarà inizialmente debole di direzione variabile ma dalla tarda mattinata si intensificherà dai quadranti settentrionali il mare da quasi calmo ammosso entro la sera di domani le temperature minime di questa notte saranno comprese tra 9 e 15 gradi e le massime di domani in diminuzione comprese tra 17 e 20 gradi per la meteo è tutto buon proseguimento di serata